Ciao a tutti, oggi vi parlerò degli ultimi film visti dall'ultimo video sugli ultimi film visti. Faccio proprio delle recensioni scattanti, sfumeggianti e molto brevi sui film visti in questo periodo che non c'è nessuno questa volta che spicca, che mi abbia impressionato granché, anche perché alcuni già sulla carta non è che fossero sti capolavori. Ma ad agosto soprattutto io ho voglia di vedere cose belle, pimpanti, leggere. Io che mi guardo sempre i drammoni coreani e i film sugli iraniani che soffrono, ad agosto di solito guardo cose un po' più leggerine, diciamo. Il primo film che ho visto è Wild Combination, A Portrait of Arthur Russell, di Matt Wolfe. È un documentario sulla figura carismatica, affascinante, enigmatica di Arthur Russell, che è un musicista che io adoro tantissimo. Ma prima di vedere questo documentario vi direi di ascoltarvi direttamente i suoi purtroppo pochi album, perché è un autore morto giovanissimo. È un artista che ha saputo coniugare con destrezza e con un'intelligenza che non si è più vista in nessun altro artista musicale, la musica, diciamo, leggera pop con quella d'avanguardia. Quindi ha sperimentato sia nel campo del pop, che dell'art rock, che del minimalismo, della classica, dell'aus, della techno, del folk. E ha realizzato quasi tutti gli album straordinari. E quindi ho voluto vedere questo documentario, che in verità si può considerare come una sorta di appendice, di piccolo approfondimento, soprattutto sulla sua vita tormentata, per coloro che apprezzano i suoi album, semplicemente. Il secondo film che ho visto è un altro documentario, ed è The True Cost, di Andrew Morgan. È un film del 2015 che vorrebbe mostrare il lato oscuro dietro all'industria della moda cheap a basso costo, quindi delle grandi catene tipo H&M, Zara e Zimilia. Documentario interessante che molto raramente lascia delle riflessioni seriamente inedite. Mi aspettavo molto di più, ma comunque una visione interessante in linea con il classico documentario di denuncia su una multinazionale random. Quindi interessante, andava bene. Poi ho visto un film che sulla carta sembrava interessante, perché ne ho sentito parlare bene, ma non mi ha convinto granché, anche perché secondo me lo svolgimento è stato abbastanza prevedibile, nonché abbastanza noiosetto. Ed è Lake Mango, di Joel Anderson, che è un mockumentary horror, costruito come un vero e proprio documentario, in verità, non tanto come un Blair Witch Project, un Wreck, o queste cose qua. Sembra proprio un documentario di quelli che realizza, ad esempio, Netflix, HBO, quelle cose lì. Ma appunto è un film horror, è un film horror che in verità di horror ha ben poco, diciamo che è più strutturato alla maniera del documentario, registicamente, a livello tecnico, è molto interessante proprio perché riesce a convincerti, ma allo stesso tempo non mi ha convinto perché è noioso. È in sostanza noioso, la storia non è neanche così tanto interessante. Se vi interessa un mockumentary horror seriamente figo, vi consiglio Noroi, film giapponese del 2005 di Koji Shiraishi. Bellissimo, forse è l'unico horror che mi abbia veramente spaventato a morte, ve lo straconsiglio. Ho visto un altro film, molto più yeh yeh, che è Excision, di Richard Bates Jr., film del 2012. È una strana commistione tra horror, splatter e black comedy, un po' in stile, però black comedy come quei film indie americani, infatti è un film molto indie, in verità, indie americane, tipo quelli di Todd Solons, Welcome to the Dollhouse, o Happiness, quel genere di film lì, molto esteticamente hipster. È un film divertente, simpatico, un po' irrisolto, quindi niente di eccezionale, ma che ha la sua punta di diamante, sicuramente nell'interpretazione della protagonista che è folle, e nel cameo dell'amatissimo John Waters nel ruolo di un prete. La sua apparizione mi ha sconvolto e sorpreso, non me l'aspettavo. Un altro film sulla stessa scia che ho visto è l'australiano The Loved Ones, è un film di Sean Byrne, che è un horror che funziona sostanzialmente per ritmo e tensione, è un pochino di umor nero. È un film horror che la butta molto sulla follia, sullo splatter, anche mai così violento, in verità. La cosa più apprezzabile, secondo me, è il dosaggio di sangue glitter rosa, no? Perché parla di questa ragazza che viene rifiutata ad uscire per il ballo scolastico, lei decide di rapire con il padre, con l'aiuto del padre, quello che vorrebbe che fosse il suo toy boy, e lo tortura, in sostanza, e realizzano un macabro prom a casa loro. È un film divertente, simpatico, con un buon ritmo, ma che secondo me nella parte finale si lascia un po' andare, non è chiuso nel migliore dei modi. Un horror veramente, veramente orribile è invece Lights Out, che non mi ricordo come si chiama in italiano, insomma, lucina il terrore, una roba del genere, o terrore nella luce, che cavolo non mi ricordo, o terrore nel buio, boh, di David F. Sandberg, del 2016. David F. Sandberg, io lo conoscevo perché è un regista svedese che ha fatto parlare di sé con dei piccoli cortometraggi horror, basati unicamente sulla tensione e sulla suspense, su idee semplici, carine, che funzionano, anche con un budget ridottissimo, pressoché nullo, e secondo me vedere un solo lungometraggio poteva essere interessante. Il problema è che Sandberg, almeno da quello che ho visto in questo lungometraggio, che è la banalità in persona, la banalità fatta sia a pellicola, brutto, carente nel ritmo, ma estremamente spaventoso, procede con il pilota automatico, è che Sandberg, per ora, secondo me, trova la sua dimensione adatta nel corto di cinque minuti. O si lascia affidare la sceneggiatura a qualcun altro, oppure deve lavorare meglio sul concetto di sceneggiatura per un lungometraggio, semplicemente, non usare una delle sue piccole idee e farci un film di un'ora e venti, perché non regge. Ho visto un classicone, un classico dimenticato, in verità, è considerato uno dei capisaldi dell'underground italiano degli anni 60, ed è Morire gratis, di Sandro Franchini, questo road drama, è un racconto on the road, folle, di questo uomo e questa donna, che devono trasportare la statua della lupa, e con conseguenti risse, violenze, è un film molto cupo, molto scuro, allo stesso tempo graffiante, però non mi ha lasciato tanto, devo essere sincero, sarà che mi aspettavo un filmone, perché a me il cinema di quei tempi, a me piace molto, mi ha ricordato come stile, non so perché, perché sono totalmente diversi, Silvano Agosti, che in realtà è un documentarista, sarà per quello spirito lì, non lo so, quel tipo di film ha nel più alto dei cieli, mi sembra che fosse, non era di Agosti, però era un film folle italiano degli anni 70, di questi qua che rimangono chiusi nell'ascensore del Vaticano, e stanno male, e continuano a salire, bellissimo quello, lo consiglio, però è un film interessante, ma non mi ha sconvolto l'esistenza, ha più che altro un alone da cult movie, diciamo, un film veramente orrendo, osceno, non guardatelo, invece è, al di là di tutti i limiti, di Marek Kanievska, del 1987, con un giovanissimo Robert Downey Jr., film osceno, bruttissimo, tratto dal romanzo straordinario, di Ellis meno di Zero, l'ha rovinato, allora, io non sono d'accordo, assolutamente, con l'idea che il film debba essere fedele al romanzo, non è vero, non è, non è, non è reale questa cosa, ma, eh, questo film, anche se non considerato come trasposizione del romanzo di Ellis, è osceno, perché, prende la disumanizzazione del romanzo di Ellis, La Snatura, e diventa una sorta di film legato famiglia cristiana contro le droghe negli adolescenti, in sostanza, è un film di un sentimentalismo estremo, brutto, patetico, recitato anche abbastanza male, secondo me, invece la regia è carina, perché rimanda subito a quegli anni Ottanta, lì un po' scintillanti, ma è proprio patetico, è un film, non pretenzioso, però ha l'esigenza inutile di dover per forza dare una morale forzata e banale, brutto. Un altro film che ha a che fare con British Tonellis è invece The Canyons, di Paul Schrader, del 2013, ha a che fare con British Tonellis perché la sceneggiatura è sua, film fischiatissimo, perché anche per il fatto che i due personaggi principali, che secondo me hanno una scelta di casting estremamente azzeccata, invece sono l'attore porno James Dean, e la diva Lindsay Lohan, ormai sfata, bruttissima, in questo film è veramente brutta Lindsay, cioè ho avuto un crepitio. La sceneggiatura tratta appunto, sempre le classiche tematiche elissiane, del marcio che c'è dietro a questo mondo, di lustrini, della produzione di film, della creatività legata al nulla della vita, con dei violenti omicidi, raptus a caso, sesso, ok, un problema che sembra proprio un compitino. Non è così orrendo come dicono molti, secondo me si può guardare con tranquillità, ma scorre via innocuo, e non lascia assolutamente nulla, secondo me. L'ultimo film di cui vi parlo, invece è un film che sta facendo seriamente discutere, perché è amatissimo, io amavo, mi piace il regista, non è tra i miei preferiti, ma mi piace molto, che è Na Hongjin, il regista, il regista coreano, del bellissimo thriller, The Chaser, che vi consiglio, mentre il film in questione, uscito quest'anno, è The Wailing, che ho trovato subito di grande interesse, appena ho saputo della sua uscita, perché per la prima volta, il regista coreano, abbandona un po', cioè, in realtà è sempre quello il genere, però abbandona un po' quel genere di thriller, un po' d'azione, che i coreani stanno dimostrando, di saper destreggiare, con grande intelligenza ed estetica, per addentrarsi invece, nel campo più rischioso, dell'horror sovrannaturale, con, indagini, thriller, quindi una commissione, tra thriller e horror, come ci hanno abituato i coreani, nei primi 2000, no? Ma, il film in sé, molto divertente, molto schizofrenico, perché alla fine, è un delirio, di due ore e mezza, di splatter, indagini, piccola commedia nera, di qua e di là, qualche risatina, molto coinvolgente, ma anche sfilacciato, è non pienamente risolto, a volte, il ritmo cala, a volte il ritmo esplode, è un po' altalenante nel ritmo, secondo me dura troppo, doveva essere accorciato, per il resto, un buon film di intrattenimento, mi aspettavo molto di più, ma è un discreto film di intrattenimento, sfrutta i cliché dell'horror, dalla bambina posseduta, al mistero irrisolto, all'indagine del poliziotto, un po' cacciarone, con grande intelligenza, senza mai scadere troppo nel banale, quindi gioca con i cliché, con una certa furbizia, e quindi sicuramente, bisogna dargli atto, però vi consiglio di vedere, dello stesso regista, The Chaser, quello è un gran bel film, di genere, e detto questo, le mie visioni, di cui discutere, sono terminate, fatemi sapere, se avete visto qualcuno, di questi film, se vorreste vederlo, se avete sentito parlare, io vi saluto, e alla prossima, ciao ciao!